Giovedì 13 ottobre alle ore 18, in largo proprio di Ariagnello, nel centro storico di Napoli, per il ciclo di incontri Cantaste e Band, sarà proposto il progetto, Questa città. A presentarlo tra musica e parole, saranno Lettis Fatti, Patrizio Trompetti e Lino Bairetti. Questa città è un libro con annesso DVD, in cui viene messa sotto la lente di ingrandimento, la città di Napoli, vista anche dagli occhi di Henry De Luca, che getta uno sguardo trapassato e presente. Nel libro, sono presenti anche le foto di Sergio Siano, e nel DVD c'è il videoclip realizzato interamente in animazione 3D. La manifestazione, è realizzata con il patrocinio morale della Sesta Municipalità, è promossa da Mayday News, Associazione Pietrasanta, Ensemble Vocale di Napoli, Dragonfly, La Locanda del Grifo, Hotel Neapolis, Belle Arti Resort, Miletti Strumenti Musicali e la Macchina del Tempo. In caso di pioggia, gli incontri si spostano nella Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta. Ulteriori informazioni, sul sito www.dischiamusica.it Arrivederci alla prossima edizione, e buon viaggio!